Sono stati ufficializzati i gironi di prima categoria e la Luntina giocherà nel girone C nel comprensorio nebroideo palermitano. La squadra è già al lavoro e deve difendere il proprio blasone per essere tra le protagoniste in questa stagione 2022-2023, la prima post-covid e dunque con la presenza del pubblico. Già da due settimane che lavoriamo e i ragazzi sono entusiasti e stiamo lavorando abbastanza bene in una struttura, quella di San Marco, che all'ordine del giorno forse in pochissimi paesi c'è una struttura del genere. Per quanto riguarda la vostra squadra, pensa di rafforzarla oppure basta così? No, va benissimo così, anche perché la società ha fatto dei grossi sforzi e siamo abbastanza al completo. La squadra è ottima, gli innesti sono stati importanti e quindi va benissimo così. Quali sono gli obiettivi quest'anno? Ma sinceramente la società non me ne ha chiesto gli obiettivi, o hanno soltanto voglia di divertirsi, non ci nascondiamo, sicuramente siamo una squadra importante, però per vincere sicuramente servono tantissime componenti nel calcio, come in qualsiasi altro sport. Sicuramente non ci nascondiamo, non sono il tipo che mi nascondo, è una squadra importante, è la Luntina e andremo a fare sicuramente un campionato importante. Quali saranno le squadre che potranno eventualmente ambire a vincere il titolo? Ma non cambierà nulla alla fine, sicuramente le squadre del Palermitano non le conosciamo, l'unica cosa che cambierà è la società che avrà delle spese maggiori per le trasferte, soltanto questo.